Fere, dimmi, secondo te che cosa succede se noi attiriamo questo buttafuori e dopodiché chiamiamo la polizia? Non lo so, non lo so, la polizia arresta lui o arresta noi per averlo disturbato? È una bella domanda! Secondo me arresta lui! E ragazzi, come va? Io sono Ferenichi! E io sono Steffi, che siete con il mio GTA V! E stiamo qui! Torniamo con un nuovo episodio del Si può fare, dato che era da tantissimo tempo che non ne portavamo uno! Esattamente! Allora, la cosa più importante di oggi è me l'avete già capita dal pre-intro! Vogliamo testare quella roba lì! Perché se vi ricordate, quando noi avevamo attirato un civile e l'avevamo, diciamo, provocato e aveva iniziato a picchiarci e avevamo chiamato la polizia, la polizia aveva ammazzato il civile! Quando invece ci avevamo provato con i pompieri, la polizia aveva ammazzato noi! Quindi, con il buttafuori, che cosa succederà? Non lo sappiamo, però dobbiamo tentare altre cosette davvero epiche prima di fare quella! Allora, Fere, sai già benissimo cosa dobbiamo fare per prima cosa? No! Quale è l'età? Allora, so la lista, ma non so dove iniziamo! Ok, centro operativo mobile! Quindi portami nel tuo centro operativo mobile che lo volevi far vedere con solini, dai! Saranno felicissimi del mio... Allora, siccome tu hai preso il bunker bellissimo, ricordiamo questa cosa, io mi sono vendicata facendo un centro operativo mobile più bello del tuo! Va bene, Fere, va bene! Muoviti a farlo vedere, va! Sei pronto, Steph? No, grazie! A vedere il mio centro operativo mobile! Guarda, guarda, che dici? Un po' appariscente? No, Fere, non si noterebbe mai! È abbastanza sobrio, ti piace? Si mimetizza da Dio proprio! Vero, vero, sì, lo penso anch'io! Allora, 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 qua ho una lista delle cose da fare, quindi fammi spiegare subito! Ce l'ha scritto KXLGamer, praticamente ci hanno chiesto, e ce l'ha chiesto tantissima gente questa cosa, di provare a prendere il centro operativo mobile con il Cargo Bob! Ok, molto interessante, molto bello! Esattamente, anche molto semplice, e io devo ammettere una cosa, so già che cosa succede! Davvero? Sì, perché un giorno stavo giocando con Lion e ci ho provato per curiosità! Ma io non lo so invece! Allora, ti ho messo il punto dove devi andare, sì, infatti tu non c'eri quando ho provato questa cosa! Quindi, io ho preparato un si può fare da fare, ok, da testare, non appena proveremo la cosa che io già so, non si è capito nulla! Non ho capito niente! Perfetto così, ok, io adesso vado qua, scendo, aspetta che è un po' complicato, lo sai, e non si aggancia, come puoi vedere, ok? Ok, ti sei solo parcheggiato sulla mia stiena! Esattamente, però, se io avanzo un altro po' Prendi solo la parte di davanti? Già! No, davvero? Posso prendere la parte di davanti? E si stacca, quindi? Guarda! Senza che io lo stacchi? Guarda! Guarda, Fede! Non ci credo! E guarda, è rimasta la parte lì, in mezzo alla strada, non ci credo! Ok, e tu dirai, ok, questa è una cosa strada che non mi sarei mai aspettato in vita mia! Si, si è staccata la parte di davanti! Anche perché ti farei notare che non riesci ad andare, eh! Vedi che non riesco ad andare verso l'alto? Eh, ho notato, quindi pesa parecchio! Sì, non si sa bene perché, in ogni caso, cosa voglio provare io adesso? Dato che il centro... Sì! Sono caduta! Sì, ti ho buttato, non ti volevo più, non mi servivi più, Fede! Dicevo! Pensavo fosse caduta, vai! Dato che in questo momento il centro creativo mobile è qui fermo... Ok, prima di tutto voglio sapere una curiosità, risulta che ci puoi entrare dentro oppure risulta ormai come se fosse una cosa inesistente? Eh no, ci posso entrare dentro! Ci puoi entrare dentro! Perché dietro vedo comunque il tondino blu che mi permette di entrare, quindi posso! Adesso io ti voglio chiedere una cosa, vedi com'è fatto dietro la parte di veicolo che ti è rimasta? Sì, ovviamente! Ok, è la classica cosa per agganciare i, non so bene, i nomi tecnici, i veicoli, facciamo così, ok! Sai che altro veicolo ha quella stessa identica cosa, Fede? Non lo so! Il Phantom Wedge! Dici? Non lo so, Fede! Dici che si può fare! Non ne ho la più pallida idea, ma se si può fare, voglio il primato della cosa più geniale fatta su GTA nel 2017, Fede! Ok! Comunque, quantomeno va provato! Allora, Fede, guarda attentamente, mettili a confronto, se no ti sono uguali, identici! Eh sì, eh sì! Quindi, teoricamente il tentativo è buonissimo! Sì, è giusto! È giusto! Cioè, più o meno giusto! Potrebbe funzionare! Che poi, a parte quello spuntone che tu hai davanti, anche il muso è molto simile! Oddio, 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 aspetta sta muovendo! Oh mio! No, Fede! Fede, abbiamo... Che bello! Le cose che riusciamo a scoprire! Fede, non ci credo! Fede, ci siamo riusciti davvero! Io l'ho visto muoversi... Aspetta, 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 proviamo l'ultimo... La cosa finale! Ok! Fermati, lì voglio vedere se ci posso entrare! Cioè, se quindi anche col Phantom Wedge come muso... Ok! ...risulta un centro operativo effettivo! Prova, 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 prova! Vediamo! Oh mio Dio, dimmi di sì! Posso entrare? Puoi entrare? Posso entrare? Faccio entrare anche te? No, grazie! Allora, entro da solo! Entro da solo! Adesso vediamo... Dammi conferma, io ne vado un po' in giro! Sono dentro! No, 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 no! E dimmi che posso sparare con le torrette perché... Consolini! Cioè, nei commenti dovete scrivere la cosa più geniale del 2017 su GTA V! Dunque, questa cosa qua è fantastica e credo che nessuno in tutto il mondo l'abbia proposta, eh! Secondo me, secondo me non l'ha fatta nessuno! Ti va a pensare queste cose, ma neanche io ci sarei mai arrivata! Comunque ti dico, anche un'altra cosa! Ah-ha! Posso usare le torrette, cioè sono a tutti gli effetti un centro operativo mobile funzionante! Con il Phantom Wedge per spalzare tutti! Totalmente! No, vabbè! Quindi, capito, non solo io posso sparare con le torrette, ma tu mi spiani la strada col Phantom Wedge! Questa è un'arma di distruzione letale di massa, ancora meglio del Cargo Bob col carri armato sotto attaccato! È ancora meglio questa! Io non ho niente da dire, Ferre, non so che dirti! È la cosa più bella che forse abbiamo mai fatto, cioè, non ci credo che funziona! Non l'avrei mai detto! E adesso vorrei girare a spalzare un po' di gente, scusa, eh! Qua bisogna spaccare un pochettino! Olè! E' un M3 Spano, guarda! Guarda come siamo diventati! Guardaci! È bellissima! Lei si diverte sempre a sparare, poi, eh! Tocca a lui, Ferre! Ci pensi tu? Certo che ci pensi io! Vai, vai! Ma scherzi! Allora, mi metto qua e lo scordo... Ma secondo te lo devo picchiare o gli do solo partire? No, 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 lo devi spingere, eccetera, eccetera! Ehi, tu! Ehi, guardami! Ti sto spingendo! È rimovibile in questo momento, guardami! Ecco, ecco! No, aspetta, aspetta, si è arrabbiato! Si è arrabbiato! Mi sta invitando alla sfida, non so se posso resistere! Ferre! Non so se resisto, penso di dargli un pugno! Non puoi picchiarlo, Ferre! Altrimenti non ha senso la prova! Ma no, io lo voglio picchiare! Devi girare intorno e tenerlo arrabbiato! Ma è caduto! Ma come? Ma adesso è una vergogna! Sono più butta fuori io di te! Ma come? Ok, Ferre! Ok, sta arrivando? Sì, 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 sì! Ok, io gli ho dato un'altra spinta per sicurezza! Resta qui, resta qui, resta qui! Fatti colpire! Ok! Fatti colpire adesso! Ok! Ok, la polizia ha visto tutto! Ok! Fatti picchiare ancora! Ok, io sono ferma, eh! Perfetto! Ok, continuo a picchiarmi! Ok, la polizia si sta avvicinando! Polizia mi sta uccidendo! Polizia! Ma, polizia, polizia! Polizia! Aspetta, Ferre, aspetta, 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 aspetta! Ma sto per morire, cavolo! Eh, infatti, gira intorno adesso, gira intorno! Cavolo, cavolo, cavolo! Cosa sta succedendo esattamente? Cosa stanno comando? Allora, non la stanno attaccando, però non la stanno attaccando neanche, Ferre! Esatto! Che succede? Cioè, i buttafuri, quindi, sono intoccabili! Ma mi sa che stanno andando! Sicura? Altro pugno! Polizia! Ferre! Che tristezza, però! Ma come? Ma come non ti aiutano? Allora, è una cosa totalmente... Scusa, mi ha dato tre pugni e li devo arrendere! Mi sembra giusto essere pari! Guarda, gli ho spaccato la mascella! Hai visto che gli ho spaccato la mascella? Giovanni Andreotti ci ha chiesto se noi andiamo sopra un palazzo, ci mettiamo fuoco e ci buttiamo giù, Ci spegniamo o continuiamo a bruciare? Bellissimo, bellissimo! Bella domanda questa! Allora, io ti do fuoco e tu ti lanci! Grazie, Ferre, grazie! Prego! Avevo proprio voglia di prendere fuoco oggi! Sei molto gentile! Sei com'è, sei com'è, sei sempre bello! In ogni caso, fateci sapere, mettiamo magari un sondaggino, se mi ricordo, se preferite essere nominati con nome e cognome durante il video, o se preferite, diciamo, comparire con il solito screenshot, perché, diciamo, entrambe le cose ci viene scomodissimo per l'editing, ma una delle due, diciamo, non ci cambia molto a livello di lavoro, quindi fateci sapere questa cosa così facciamo quella che preferite voi, in modo tale da rendervi felici quando, diciamo, scegliamo il vostro commento. E adesso andiamo sopra questa torre, scelgo ovviamente la più alta, perché così, diciamo, testiamo al massimo la discesa. Allora, vai, tiramone una! Boom, stai prendendo... Ah, ho preso fuoco anch'io però! Ok! Aiuto! Mi sono spento! Ma sei la fia... Aspetta, no! Ma l'hai visto il bug? E mi rimane il fuoco per sé... No! Ma stai scherzando che si possono fare queste cose? Adesso quando atterri? Adesso scompare. Allora... Però aspetta, nel frattempo, tu hai preso fuoco per tutto il tempo della caduta, e non sei morto! Non prendevo più danno, mi sa! Esatto! Era un bug visivo, capisci? Cioè, ok che non facevamo un si può fare da più di un mese, ma a GTA non ci puoi far capitare tutte queste cose in un solo video! Ma dai! Ci emozioniamo così! È certo che ci emozioniamo! Ne facciamo una al giorno in questo modo! Cioè, tutto mi aspettava tranne questo! No, io ci mi sono girata nel tuo schermo! Cioè, o non aveva effetto... E ti ho visto... O mi spegneva! Fuoco infinito non si... Proprio era impensabile! Alessia Colombi ci ha scritto Se noi utilizziamo il visore termico con una persona che sta sott'acqua la riusciamo a vedere? Oppure no? Interessante questo! Perché teoricamente l'acqua dovrebbe far scendere la temperatura corporea delle persone e quindi potenzialmente si potrebbero non vedere. Non so nella realtà com'è... Però guarda, dopo oggi non do più niente per scontato! Quindi direi di provare subito! Guardi, col visore termico sott'acqua e vedi il mostro di Loch Ness Eh, non si sa mai! Per come sta andando questo video! Esatto! Non si sa mai! Potrebbe succedere! Ok, Fere! Ti vedo, ti vedo, ti vedo! Sei pronta? Vai! Sono sott'acqua! Sei scomparsa! Ma davvero? Torna su e avvicinati! Torno... Torna su! Ok! Vi lascio col visore termico così vedete appena torna! Fere? Perché non torna su? Fere, torna su! Non ti suicidare! Ecco, è stato a nuotare! No, no, no! Ho ripreso ogni tanto e mi si blocca la nuota! Ok, guardate! Vedete? Cioè, tipo, io in questo momento ho nel mare e la vedo a malapena! Col visore termico la vediamo in pieno! Quindi sei galleggio! Vieni un po' verso di me! Ok! Ok, vai sott'acqua! Ok! Scompari! Scompari! Se ti vedo a malapena! Vedi? E più stai in alto più stai giù meno ti vedo! Ok! Più stai su più ti vedo! Mi sembra super realistica questa cosa! Sì, sì, ha senso! Se rimai sott'acqua un'ultima volta Ok, aspetta che sto Super giù! Super giù! Sto riprendendo un attimino fiato in vita che ogni volta mi fai morire! Vado! Vado! Tutto giù! Tutto giù! Tutto giù! Non ti vedo! Quando sei tutto giù non ti vedo! Sono nella sabbia adesso quindi più giù di così non posso! Non ti vedevo! Funziona! Funziona anche questo! Bravo GTA che l'hai fatto bene perché non era banale da pensare! Non era banale! In ogni caso il visore termico è comodo anche per quando la gente sta in acqua perché stavo notando che si vede parecchio di più quindi fa decisamente comodo Guarda come si vede il fuoco col visore termico! Che strano! Fichissimo! Non l'avevo mai guardato! Per il video scelteci un like e per la prima volta che avete visto il nostro video potete considerarli da descrivervi per non perdervi niente i video! Ciao! Alla prossima! Ciao! 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 Ciao!